Ciao Federico Allora, ce ne sono 5 o 6 di riviste dedicate ai videogiochi Questa è una di quelle Ti comincio a mandare il video perché non riesco a dire in giapponese ai tizi delle poste che voglio inviare qualcosa Quindi ci vorrò un pochino Allora, te la sfoglio qua in video e poi appena riesco te la spedisco Questa qua è la pagina principale, questa qua viene 650 yen che sono circa 4,50 euro dovrebbero essere più o meno La rivista è questa qua, Smash, Sumashu Questa qua è la pagina principale, si legge ovviamente al contrario Non ci sono riviste in inglese, non ne abbiamo viste, sono tutte in lingua giapponese Allora, questa è la pagina principale, scusa il riflesso ma c'è la luce proprio qua sopra Qua abbiamo un documento per abbonarsi Questo qua è il numero 440 Le pagine sono... dovrebbero essere una sessantina di pagine Non sono sicuro, te lo dico poi alla fine Scorriamo un po' Ci sono proprio... Le foto... Dei movimenti Dei movimenti Dovrebbe essere un mensile Dopo guardo bene sulla copertina E se è il numero 440 Dove essere un po' che c'è Dovrebbe essere un menile Dovrebbe essere un Elliot Da! nya Grazie a tutti. Vediamo che all'interno ci sono delle pagine in bianco e nero anche. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.